Ciao a tutti ragazzi, io sono Andrea e benvenuti in questo nuovo video. Prima di cominciare, come sempre, come al solito, vi ricordo di seguirmi su Instagram e su TikTok, il link è trovato qui sotto in descrizione. Dunque, signori, mancano pochissimi giorni al San Diego Comic-Con, dove si terrà questa mega conferenza dei Marvel Studios direttamente dalla sala H e che, come sempre, seguirò in live sia su Twitch che su YouTube nella notte tra sabato 27 e domenica 28, o si partirà alle 3 del mattino, io magari attaccherò la live un'oretta prima. Sì, lo so, l'orario non è dei più fortunati per noi italiani, ma comunque siamo lì, non ci faremo mancare nulla e poi, ovviamente, dopo la live usciranno i video recapponi, reaction, analisi, insomma, le solite cose. Tra l'altro, vi sto girando questo video prima dell'uscita di Deadpool e Wolverine, quindi se la post-credit anticiperà eventualmente qualche film, qualche altro nuovo progetto, spero di averlo inserito prematuramente all'interno di questo video previsioni e di non essermelo lasciato scappare. Ho deciso di fare un recappone generale anche di tutto quello che uscirà da qui al 2025, tra le cose già annunciate, perché comunque, secondo me, molte cose verranno fatte vedere sabato prossimo. Direi di cominciare da Deadpool e Wolverine, uscirà il 24 luglio, Marvel Studios farà una conferenza interamente dedicata al film il 25, che è il giorno di uscita in America, quindi durante la serata degli annunci non penso dicano qualcos'altro, a meno che non tirino fuori a sorpresa un Deadpool e Wolverine 2, ma dubito, anche perché loro due, secondo me, li vedremo poi direttamente nel prossimo Avengers. Il 19 settembre 2024 uscirà la serie su Agatha su Disney+, abbiamo già visto il trailer, probabilmente magari mostreranno una clip, non so se ci saranno i membri del cast, ricordatevi che comunque poi tra due settimane c'è il D23 e secondo me qualcosina, magari le cose un pochino più piccole, le porteranno lì. Per quanto riguarda Agatha, non so se faranno vedere qualcosa. Come qualche dubbio, in realtà, ce l'ho anche per Capitan America Brave New World, che uscirà al dolci ferbaio 2025, è uscito il trailer da pochissimo per farlo vedere prima della proiezione di Deadpool e Wolverine, magari potrebbero mostrare una clip a porte chiuse solo per i presenti alla conferenza, il che potrebbe andare bene. Marzo 2025 abbiamo la serie TV di Daredevil, secondo me qui è probabile che mostrino qualcosa, se non qui, sicuramente al D23 uscirà un trailer o un teaser. Credo che facciano vedere qualcosa a questo San Diego Comic Con, perché uno dei registi della serie aveva messo una stories qualche giorno fa chiedendo chi sarebbe stato a San Diego Comic Con, poi la stories è stata rimossa dopo tipo mezz'ora, quindi probabilmente qualcuno l'ha cazziato e secondo me è un segnale che verrà mostrato qualcosa. Come potrebbe essere mostrato qualcosa? Per quanto riguarda Thunderbolts, che uscirà il 2 maggio 2025, le riprese sono ormai ultimate, da qualche settimana, quindi un primo montaggio potrebbero tirarlo fuori. Secondo me sarà una conferenza bella pregna di annunci e anche di trailer e di cose da mostrare. Con Thunderbolts si concluderà la fase 5 dei Marvel Studios, poi comunque abbiamo delle robe che sicuramente verranno inserite entro la fine del 2025 e 2024, però le faccio vedere dopo perché al momento non hanno una data ben specifica. il 25 luglio la fase 6 si aprirà con il film di Fantastici 4, il cast sarà sicuramente presente alla conferenza, si mostrerà magari in costume, tra l'altro la loro presenza è data per certa al 100% perché hanno già attaccato dei poster con il nome di Fantastici 4, tra l'altro si è già anche la scritta Fondazione Futuro, quindi secondo me magari qualche promo art ci verrà mostrata. 7 novembre 2025 sarà la volta di Blade, mi aspetto un rinvio sulla data perché devono ancora finire lo script, le riprese erano previste per febbraio 2025, dubito che riescono a fare in tempo, quindi probabilmente slitterà in avanti. Poi abbiamo le serie animate, Eyes of Wakanda e Friendly Neverhood Spider-Man, che tra l'altro credo escano entro la fine di quest'anno, queste due più X-Men 97 e la terza stagione di What If che ho inserito qua, verranno mostrate in anteprima al D23, quindi magari ci daranno una data, le piazzeranno nella timeline, perché mi aspetto che vi infaghi che mostri il solito sfondo con tutte le date e tutti i loghi, ma dubito facciano vedere qualcosa. Sono curioso invece per Ironheart, Ironheart avevano già fatto vedere qualcosina a porte chiuse, sicuramente faranno vedere qualcosa a questo San Diego Comic-Con o al D23 e dopo che era stato rinviato probabilmente ci daranno una data certa. Altre cose confermate e che mi aspetto verranno posizionate nella timeline sono la serie su Wonder Man, le cui riprese sono ultimate anche di quella, che mi aspetto esca tra il 2025 e il 2026. Primo maggio 2026 abbiamo data fissa per Avengers 5, che tra l'altro dovrebbe avere un nuovo titolo, sappiamo che il focus ormai non sarà più su Kang e i vari rumor stanno puntando tutti su Avengers vs. Six-Men e anche in base alle ultime dichiarazioni di Kevin Feige sul fatto che sta arrivando l'era mutante che da dopo Deadpool e Wolverine vedremo sempre di più i mutanti, mi fa pensare che andremo in quella direzione. L'ultima data fissa che abbiamo per ora è quella di Secret Wars, la cui uscita al momento è al 7 maggio 2027. Secondo me anche Secret Wars è probabile che venga rinviato. Abbiamo poi altri due progetti, anche questi senza una data, Marvel's Zombie che ho messo staccato da Spider-Man X-Men 97 e Ice Wolf Wakanda perché non erano elencati nel panel al D23, se lo sono dimenticati lo tireranno fuori. Potrebbero magari mostrarlo a San Diego Comicon e farlo uscire, non lo so, entro la fine di quest'anno, non ne ho veramente la più palida idea. E poi abbiamo anche Armor Wars che era prima una serie e poi diventato un film e poi non se ne è saputo più nulla. Questa qua è un TBA generico perché non ho idea neanche se lo andranno a sviluppare al momento. è probabile che magari abbiano anche cancellato il progetto. Ma arriviamo alle cose nuove, alle cose di cui si rumoreggia da diverso tempo e che secondo me verranno presentate dal buon Kevinone. Allora, per quanto riguarda i film, abbiamo diverse opzioni. Shang-Chi 2 è una delle mie certezze, credo, per questo San Diego Comicon. Hanno dichiarato più e più Licker che probabilmente uscirà addirittura prima del prossimo Avengers 5. È un po' che non vediamo il buon simulio nei panni di Shang-Chi. È probabile che ci diano una data e lo vadano a posizionare nella timeline. Così come, questo forse più il mio desiderio, un progetto dedicato a World War Hulk. Qualcuno aveva ipotizzato che Avengers 5 potesse essere Avengers World War Hulk che mi andrebbe effettivamente bene. Però in base a quanto dichiarato in giro ci saranno diverse versioni di potenziati di raggi gamma all'interno del prossimo Capitano America Brave New World. Oltre a Hulk Rosso sappiamo che c'è Shulk in giro, sappiamo che c'è il figlio di Hulk e tra l'altro all'interno di Capitano America 4 dovrebbe essere citato, se non addirittura fatto vedere, che altre nazioni in giro per il mondo stanno tentando di creare il loro Hulk. E fare poi un progetto interamente dedicato appunto a tutti questi Hulk, tutti questi mutati dei raggi gamma che fanno casino in giro per il mondo non sarebbe male. Mi aspetta a questo punto anche l'annuncio finalmente di Young Avengers. ce li hanno tiserati fino a tutti gli ultimi progetti. Abbiamo visto addirittura Kamala Khan andare dalla figlia di Scott Lang nel finale di Quantumania per chiederle appunto di entrare in questa nuova formazione. Mi aspetto che ci dicano qualcosa anche riguardo per non andare veramente troppo in là. Anche perché secondo me in Capitano America Brave New World ci faranno vedere magari nel post-credit l'incipit a Patriot. Dovremmo avere anche Vision Quest con Vive eccetera. Insomma, gli Young Avengers ormai sono quasi formati. Abbiamo poi Spider-Man 4. Spider-Man 4 per me è una grossa incognita perché solitamente veniva sempre annunciato da Sony. Kevin Feige ha dichiarato recentemente che stanno lavorando con Amy Pascal. Sony non credo che sia presente a San Diego Comico. Nel momento forse avrà un mini panel cosa secondo me anche abbastanza stupida perché comunque loro hanno in uscita Venom e il film di Kraven quindi io magari al posto loro farei un panel. però effettivamente fare tutta la timeline nuovamente senza piazzare Spider-Man 4 ha poco senso. Anche perché secondo me l'anno di uscita a questo punto può essere solo il 2026 perché il 2025 è troppo presto il 2026 è perfetto magari da far uscire prima di Avengers 5. Vediamo. Questo è veramente il mio grosso dubbio. Altri due film di cui mi aspetto qualche update sono Thor 5 che sappiamo si farà e Doctor Strange 3 che ho messo col titolo Time Runs Out perché in base ai leak dovrebbe andare ad adattare quella run lì. Tra l'altro qualcuno aveva ipotizzato che potesse addirittura anche lui uscire prima di Avengers 5 quindi in caso dovrebbero annunciarlo obbligatoriamente in questa conferenza. Abbiamo poi altri progetti questi qua sono tutti quelli relativi alle serie tv e comincerei da Nova che William Feige recentemente ha confermato che stanno sviluppando una serie tv su Nova con protagonista Richard Rider che uscirà su Disney Plus tra 3-4 anni. Non so se effettivamente lo mostreranno in timeline perché Feige va dichiarato che comunque avrebbe presentato quello che uscirà nei prossimi 2 anni barra 3 anni. Se effettivamente Nova uscirà tra 4 anni magari non lo metti in timeline soprattutto perché comunque ha detto tra 3-4 anni avesse dato un arco temporale fisso secondo me l'avremmo visto quasi per certo con un anno sotto. Non lo so magari è stato molto vago per poi annunciarcelo in maniera definitiva sabato prossimo. Abbiamo poi il progetto The Witch's Road dovrebbero fare appunto questo adattamento alla run su Scarlett Witch che dovrebbe poi portare a un progetto stand alone su Scarlett Witch che non ho voluto inserire in queste previsioni perché dubito annunci in un progetto stand alone su Scarlett Witch a questo San Diego Comic Con probabilmente il suo ritorno è più fattibile vederlo magari all'interno di un film come Avengers 5 oppure negli Young Avengers che vanno ad adottare la run nella crociata dei bambini in cui vanno a cercare Scarlett Witch fare un film su Young Avengers così non mi dispiacerebbe per nulla. Comunque The Witch's Road dovrebbe arrivare magari ci diranno qualcosa come invece mi aspetto dicano qualcosa su Vision Quest serie che praticamente ne stanno parlando tutti è stata confermata da Variety ci sono già i registi insomma è una di quelle serie come Wonder Man di cui stanno partendo i lavori ma loro che non hanno ancora annunciato ufficialmente. Le altre cose riguardano le seconde stagioni perché Moon Knight stagione 2 Occhio di Falco stagione 2 e Miss Marvel stagione 2 sono tra i ritorni più rumoreggiati e poi ovviamente abbiamo il progetto di Midnight Suns perché sicuramente faranno Moon Knight 2 per andare poi verso un Midnight Suns magari dopo il film di Blade spero che ci presentino anche Ghost Rider in mezzo con un progetto a lui dedicato queste sono un pochino quelle su cui ho diversi dubbi anche perché ripeto abbiamo il D23 non credo che si bruciano tutti 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 gli annunci a questo San Diego Comic Con nonostante abbiano due ore di conferenza però vediamo perché comunque la conferenza che poi ci sarà il D23 sarà generica su Disney Entertainment quindi oltre alla roba Marvel parleranno di qualcosa di Star Wars qualcosa di Disney qualcosa di Pixar però sicuramente qualcosina si terranno anche per per il D23 e quindi ragazzi queste sostanzialmente erano tutte le mie previsioni per questo San Diego Comic Con mi aspetto grandi cose l'ho già detto tra le cose che attendo di più credo sia sicuramente l'annuncio degli Young Avengers un progetto su World War Hulk Spider-Man 4 il nuovo titolo di Avengers 5 tra l'altro dovrebbero annunciare anche il regista o i registi nuovi di Avengers 5 che dovrebbero essere secondo le ultime fonti quasi certamente i fratelli russo e ragazzi io sono invece curioso di sapere cosa vi aspettate e voi qual è il progetto che più desiderate vedere annunciato dal buon Kevinone tra qualche giorno mi raccomando fatemi sapere con il commentino qui sotto io spero che questo video vi sia piaciuto e noi come sempre come al solito ci vediamo al prossimo video ciao